televidente e oyente un po' di più voglio ringraziare i vostri uniti per sostenere l'orazione nel ministerio e aiutare la speranza e anche per la mia persona e per altri romani per avere un team e aiutare la speranza grazie a voi per orazione e per sostenere il canale qui e per dry logicamente arriva televisione aiutare la speranza a maniera alcun di voi lo sapete e aiutare la speranza ATS media o per download arriva la nostra website atstv.nl e anche arriva la nostra canale youtube youtube.com aiutare la speranza o per buscare aTS hd tv o per buscare o per buscare o per buscare aTS hd tv o per buscare un altro canale di noi che e aiutare la speranza che e aiutare la speranza e aiutare la speranza e aiutare la speranza che segui e aiutare la speranza e l'abbia e l'abbia In questo romanzo non è facile, non è facile, sicuramente il messaggio, e ha un'opi costante, il messaggio forale, la libertà presente, il messaggio per l'ultimo tempo, ha un'opi costante, l'opi 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 costante, invece, in questo vip使ano la proposta di Gesù, che non si possa guardare il ambiente contrale e il venire ma non si possa confiar in Dio mi voglio un texto per me ricerche per me ricerche per me ricerche di 2 Corinti non è qui che sono due giorni per me ricerche 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 e come mi ricerche di una bulla servizi che non ero non è facile non è sentito alcuni di voi c'è problema con lomba c'è problema con scoliosis per me ricerche in termino medico scoliosis è è una cosa che ci sono un'esilomba in mio caso è un'esilomba normalmente è un'esilomba ma in mio caso è un'esilomba un'esilomba quindi è un'esilomba e inizia la parte quindi è un'esilomba quindi che ti passa che senti qua come vai operare quindi una operazione che non è corretto ma è un'esilomba ma è un'esilomba ma è un problema qui è un'esilomba quindi in questo quadro è una lucha per me ho sentito mi vorrei e mi trago un messaggio prima ti faccio studia studia unico Bokinan è un'esilomba quindi per mettere un tema ho studiato un po' per me ho studiato un po' per me il mio crescimento però io ho studiato un po' per mettere un tema tra i sacchi e tra i sei quindi tu ricordi il tuo tempo e questo è un problema e se mi senti un gozo dentro ora ho studiato le parole di Dio e ora ho comparto però ho studiato il tuo tempo quindi che ti passa nel mio tempo e mi ti canso come se con il mio più di questo ci sono i problemi con il lomba e quindi il mio più quando il lomba non è l'esilomba non è l'esilomba non è l'esilomba quindi quando hai un po' per me con il mio più l'esilomba con l'esilomba l'esilomba o con l'esilomba invece l'esilomba l'esilomba questo è il mio più per il lomba di misi quindi ora ho visto il tema o qualcosa di promosione o qualcosa di tempo per il tempo ci sono molestie ma perché mi ti senti a fare un po' un po' un po' che ci senti poi 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 mi senti poi 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 mi senti ma un po' è la luce io mi dico mi dico mi dico davvero se mi senti mi mi senti e sono ma in vera mi studi mi Struvarmi tra un tema. Però mi sono persverso dentro di questo. E poi tra le tiemiche, o studiare. Perché non c'è una luce. Con questa parte e con mi tengo. E perché non è facile. Non è facile. Però i ragazzi, anche qui sono domani. E poi mi sono contento, per me, per me, per me. Per non lo ascoltare. e dentro del cansancio, del dolore e dell'ombra e dell'ome tutti i Dio è un messaggio anche questo è un po' satisfezione questo è un po' satisfezione perché al final mi ha fatto un po' di sentire non, non ho mai un messaggio non ho messaggio, non ho messaggio non ho messaggio, non ho messaggio l'ho messaggio, l'ho messaggio non ho messaggio è una cosa facile ho messaggio e ho messaggio ho messaggio ho messaggio ho messaggio ma dentro del cansancio ho messaggio 2 Corintios 2 versicolo 9 versicolo 9-10 dice e dice ora è molto debile e ora è molto forte è molto facile ma come se è Pablo e mi ha sempre esperienza non lo so se Dio mi ha messaggio così ora mi viene ho messaggio perché mi ha messaggio mi ha messaggio e mi ha messaggio e mi ha messaggio e mi ha messaggio che mi ha messaggio che ci aiutano, ci aiutano, ci aiutano a crescere spiritualmente e se mi sono satisfeccio, mi sono piaciuto che mi sono fatta, non mi sento da lungo in teoria mi sono piaciuto, mi sono piaciuto, piaciuto, piaciuto senza fare nulla per Dio mi sono piaciuto, ma non ho piaciuto di me mi sono piaciuto, mi sono piaciuto di Cristo e di loro di loro, di loro, di loro, di loro, di loro di loro, di loro, di loro, di loro, di loro, di loro e se mi sono piaciuto, con la seguita orazione ma altre cose, un buon servizio per Dio per me inspirare, un messaggio per comparte con il Pueblo di Dio, per comparte che ci sono di loro e ho Libri per te lo sufruendo di esperanza e a tutti i romanti con la parte di Radio se mi piacere in compagnia di una vista profetica per tutti i romanti che ci si segui in questo programma ci sono anche chi sono anche e ci sono anche su casa anche e tu non ti voglio evitare che mentre un lavoro come un uomo che non sta facendo del ministerio ha inesperanza e la verità alcanza e la verità alcanza la tua famiglia e la verità alcanza moltissimo ok, voglio ringraziare anche alcuni romani specificamente hermana Angela che anche ora che attende anche anche alcuni romani mi presentate un altro video di grazie a tutti che è il video che è che non mi piace ma non mi piace ma anche alcuni romani aiuta a buscare e i romani cooperare e finalmente i luci in nostro ZD studio e sta sumamente nel suo luogo per esempio aiuta e guardare i luci che non mi piace che non mi piace e non mi piace quindi ora mi piace e ora mi gravo un tema mi piace e non mi piace che è il suo luogo che in questo è il suo lucio e questo serve per proposito e ci voglio ringraziare noi abbiamo anche il busto è parte di un green screen ma non si guarda, arriva a la pantalla che non si guarda il green screen e si guarda il tasto che si guarda ci sono due o tre romani che si guarda ci sono due o tre o quattro romani che si guarda sicuramente perché sicuramente ci sono tre sì, ci sono una secca però con tal ci sono due o quattro ci sono sicuri e ora si guarda sempre il green screen ma non si guarda la pantalla se guarda la pantalla come si vuoi cambiare il background il green screen è necessario è necessario per il verde salire senza sombra quindi per il lumina è sufficiente tanto è solo da presentare e così il background ci porti un studio buonissimo di presentare le mensagini in una forma più buona cosa di Dio mi sembra buona e ci sono e ci sono anche alcuni roma spesificamente un altro romano di una persona e io ho deciso di come conosci perché è mio tio è è che quindi mi ti usa il setting un tiki ma bo e in questo non è ergo c'è un programma non è tra però è durata un anno per render quindi non ho avuto la laptop la videocarte non è già alto eccetera e PC, mi ti è pubblico persone che mi non è ora è WAC se volo a un computer ento da un quadro è computer ma non è se volete a vedere c'è una pantalla qui c'è un computer anche di una persona e una persona anche di uscire il suo coraggio per ora fiamme se non arriva il computer qui mi si tratta di grabazione e il computer qui è molto buono è supporto è supporto di pressione quindi mi si tratta di due due o tre camera arriva anche per stream per real mi può passare tanto arrivo Facebook Youtube più il canale di television nel stesso momento più due camera arriva qualità buona qualità 1080p o anche 4K ok ho mandato 1080p mi può passare green screen anche quindi io ho un video card con 8GB 16GB che ho che ho che ho subito ok con dios di una forza PC ma è mio figlio quindi ultimo ho un altro completo e assinò io per pagare le persone con la fiamme e dico me ok tenete anche usate ok anteriore anche usate, ora mi logra e sem mi paguele logicamente, ma non si grazie a Dio sta a me per informare io che mi ti è compito di mio potere logicamente mi è usato per la obra di Dio che sta non si grazie a Dio, ma è computer fia e di me ora mi è essenzio logicamente mi ti cava di paguele per il vino di noi, di voi anche la sombra, per servire cada uno di voi, quindi non si grazie a Dio, per questo e adesso, se non lo sape, ci voglio ricordare anche il nostro stream, che è una cosa di è una cosa di radio e anche la televisione, di me è tutta l'una, non sta regalando così, quindi di me abbiamo, non ho visto la pantalla qui non? abbiamo anche, è una cosa di, non ho cambiato qui non? adesso non si mira, è una cosa di stream, ok? adesso qui non si mira, qui non ci ha Romain Sotis con Riccardo, Riccardo con Sotis qui non è la pantalla, questo qui è il canale di televisione, di speranza, ok? adesso vi con un shot per noi mirare qui qui? ok, non si mira, io ero questa qui è box come se vuoi, se vuoi usare qualche unione box di televisione se vuoi un TV box, MX, però ha anche una marca, anche un modello, anche un prezzo quindi se vuoi usare un carro, posso usare il live box e posso installare l'app se vuoi vedere le live televisione se vuoi un promo che non si tratta di vista profetico questo è il canale con il nostro, come si dice qui? è il programma con il nostro uso di parte profetica, come se vuoi, non con la Bibel quindi se vuoi passare la televisione se vuoi live, nel momento non è qui quindi se vuoi usare un box se vuoi installare l'app se vuoi installare l'app se vuoi telefono, se vuoi tablet ok? se vuoi TV, quindi se vuoi computer se vuoi telefono, www.aths.tv.nl se vuoi andare in un canale e anche non se vuoi vedere come se vuoi la televisione è che vuoi su fronte, alla home, e allo sui opondi i luoggini, come se vuoi radio e sempre vuoi fare, come se vuoi radio sui pari raios, e vuoiессi vordi i luoggini quindi se vuoi l'app se vuoi vedere la pantalla, ma anche il radio qui vuoi scutti, volete riprogrammati sulla scuola, riprogrammati in un altro tempo per molti e anche con la meditazione di noi con il nostro romanzo di Pone e l'essere di Bregto Edith con il nostro romanzo Epsom e Yasmin sono felice, questo è il vasto materiale che possiamo provare per aver, per te inspirare e per comprare ci sono i nostri mirelli, di una maniera facile in una box, tablet, telefono o computer, ci sono i nostri cariflex cariflex, tutti i canali e app di tele che sono per andare in giro, per andare in parte di live tv per andare in ATS tv, ci sono i nostri ci sono i nostri mirelli che hanno ci sono i nostri allora in una, è un simpile box di television quanto va bene? Qui è in giro? Sì, looki un video grazie a tanti. Ci sono molti tipo di box in teoria sul vitt il mio canale isperazione si la avete in casa, non importa se avete in Aruba, Boneiro, Olanda, Corsau, numero mondialmente che vota un box, computer, telefono, potrai ancora di speranza ti invocare con il programma tremendo è un giudice saldabile che ti passa live 10 ore mai inti, tu già domingo quindi per me che sei una stessa bella studia e quindi per me che sei un giudice non è bene, abbiamo bisogno di bere 10 ore abbiamo un giudice saldabile con tutti già siamo, abbiamo un programma di sabbacol quindi come come ho vieno abbiamo bisogno di speranza abbiamo bisogno di bere quando abbiamo bisogno di bere il giudice quindi la maggioranza di avere l'importanza è sempre per giure sostenere in questo caso ok, se vi ringa il mio telefono, non vi ringa il mio telefono, io sono qui qui per la pantalla o per app o per il mio telefono e tommo il contatto con noi, per le pregunte, per le cose che vuoi o per orazione o per sostenere anche il canale di radio o televisione o tutto quello che mandi e se tu non è possibile quindi noi voglio ringraziare UNITUR per sostenere e la mia visione romana con la mia clausura ringraziando UNITUR mi voglio ringraziare anche qui quindi io ho fatto un tempo e poi ho fatto un tempo ho fatto un tempo con la mia vita io ho fatto un feedback ho fatto un video quindi ora ho fatto un tema non? predica, studio di Bible ora ho fatto che sapevano che cosa sta passando che messaggi ha arrivato in quanto coraggio ma anche voi non sa e poi ho fatto un tempo e poi ho fatto un tempo e poi ho fatto un tempo che non ho qui basta un tempo però come come si sapevano la televisione non sapevano se la mia vita non sapevano se la mia vita o se la mia vita o se la mia vita non sapevano non sapevano se la mia vita ho fatto un tempo perchè una mia vita se la mia vita sono stato inoltre avevo un anno fu in Olanda, in Cairo, ho parlato alla mia inglese con la mia nonna in Orangestrat e dopo il servizio ho detto che ho contato con voi ho detto che è buono, ho detto che non ho conosciuto però ho detto che è ok, ho detto che ho detto che ho avuto YouTube ho detto che è ok, ho detto che ho voluto un messaggio e ho detto ok, è buono, buono e se ho usato in entanto, non ho parte di andare per predicarlo ora ho detto che ho un bus per andare in avanti ho detto che ho bisogno e mi motivato per andare a vedere i video quindi non ho detto che ho detto non ho detto se ho detto ok, quindi ho detto che ho detto ho detto che ho detto che ho voluto tu e te non sono cominciato ok, adesso vedi ho detto che ho detto che ho detto che ho detto quando ho detto che ho detto che ho detto poi io ho detto in Italia ho detto che ho detto però io ho detto che ho detto ho detto è corretto LORD io non ho detto oppure l'altro la mia stagione ma non ho detto e io non ho detto tutto il risultato ok, quindi a pensare che sia positivo può discutere però io non ho mai disanimo però io e poi tu vedi come la città mi chiamare come non conosce come un romano di iglesia una hermana un grande come non conosce mi chiede mi chiede ma non conosce ma non mi chiede ậyso ok,Nikhi Dio mi ha conteso come e mi ha contato mi ha conteso Stephen si cura ovviamente Da questo quadro mi ha detto ma la mia figlia non lo sa ma la mia sorella mi ha detto non Dio ha contato Il mio esercito ai romani sostatti ora sono in primo lugar ci sono dei più importanti, più essenziali, più necessari e alcuni romani che hanno bisogno di aiutare anche che parte fino a 0 per mantenere il canale online o di radio online o di Tudos online e anche i romani che hanno cooperato con una donazione con noi che hanno mostrato anche il green screen e anche la luce e anche due persone che hanno aiuto che hanno comparto il computer e ci sono le nostre grazie delle persone immensamente e se non ci sono benvenuti ricordate di subito al canale di Youtube se non è subito youtube.com o search ATS HD TV e ci sono altri canali e ci sono i nostri canali radio e ci sono i nostri app via la nostra website atstv.nl e assicurati se lo canali e così ci sono sempre con Dio benvenuti e anche in un'altra occasione con il Podere di Dio e anche in un'altra occasione Grazie a tutti.